Tra gli elementi che hanno portato la procura di Venezia a contestare a Filippo Tureta la premeditazione dell'omicidio di Giulia Cecchettin, c'erano anche appunti trovati nel PC del 22enne di Torreglia su come legarla per immobilizzarla e farla tacere. Sono anche state trovate tracce di un programma con cui poteva controllare i suoi spostamenti attraverso il cellulare che non è mai stato ritrovato e poi le ricerche online di corde, badili, manette. Questa è la base della contestazione della premeditazione. Gli elementi raccolti dai carabinieri sono stati a nostro giudizio naturalmente molto importanti e hanno consentito sempre al nostro giudizio di contestare l'aggravante della premeditazione proprio per l'attività che era stata posta in essere prima dell'omicidio e possiamo dire anche parecchio tempo prima dell'omicidio che a nostro giudizio è di organizzazione dell'omicidio stesso. Per la procura Tureta, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, aveva pianificato nel dettaglio l'omicidio di Giulia avvenuto lo scorso 11 novembre con una prima aggressione nel parcheggio di Vigo Novo a pochi passi dall'abitazione della ragazza e una seconda più violenta nella zona industriale di Fossò, dove dalle immagini di una videocamera la si vede aprire la porta dell'auto in movimento e provare a scappare. Lui che la raggiunge per colpirla alla testa e poi prenderla in braccio e riporla sul sedile posteriore dell'auto dove è morta. Qui Tureta avrebbe infierito su di lei col coltello. Un progetto pianificato almeno quattro giorni prima del delitto, con l'aggravante della crudeltà. Ora il suo avvocato Caruso avrà 20 giorni per chiedere un interrogatorio. Ancora alcuni punti da chiarire in primis dove siano la borsa e il cellulare di Giulia Cecchettin.